Vediamo come funzionano le opzioni di testo sul tracciato. Cominciamo con l'impostare il nostro testo. Ora abbiamo un livello di testo selezionato, quello che facciamo è che prendiamo la penna o un altro strumento per creare un tracciato e creiamo un tracciato. Sono fatto completamente a caso. Ora abbiamo creato entrambi i livelli all'interno di questo unico contenitore, per cui abbiamo testo e abbiamo maschere perché lui questa per adesso la interpreta come una maschera che non è nemmeno attiva, cioè non sta nascondendo di fatto niente. Nel momento però in cui apriamo le opzioni di testo su opzioni tracciato abbiamo maschera 1 ovvero si chiama con lo stesso nome. Se la rinominiamo il nome cambia anche qui. E vediamo che il nostro testo è stato posizionato. È stato posizionato sopra alla traccia che abbiamo creato. È posizionato a 0. Qui abbiamo l'opzione forza allineamento che la riempie tutta. Abbiamo l'opzione inverti tracciato, io parto da qui e vado verso destra. Invece se inverto il tracciato parto da destra e vado verso sinistra e anche il senso è diverso, nel senso che adesso la mia scritta è sotto. La lascio disattivata al momento. Come potete vedere è allineato a sinistra. Questo perché il mio testo è allineato a sinistra. Per cui se io vado sulle opzioni di paragrafo, allineo al centro, vedete che ora è perfettamente a metà del mio tracciato. Per cui posso portarlo avanti e indietro con le opzioni primo margine e ultimo margine. Se io attivo forza allineamento, poi posso comunque agire su primo e ultimo margine. In questo modo posso partire da questa posizione, per esempio, e far sì che il mio testo arrivi fin lì. Oppure, cominciamo da capo, posso far uscire il mio testo. Se esco dal tracciato andrà avanti semplicemente in linea retta dall'ultimo punto. Posso far uscire il tracciato dalla sequenza e poi farlo entrare. Questo è possibile farlo anche su un altro tipo di forma. Ho creato un punto che non volevo creare, lo cancelliamo. Se io ho un testo, posso farlo viaggiare su qualunque forma. Anche su un'ellisse. Faccio la stessa cosa di prima, creo una maschera, però in questo caso a me non serve che funzioni come una maschera, per cui la disattivo proprio. Torno su opzioni e gli dico maschera. E tac, il mio testo viene agganciato. E valgono le stesse regole di prima. Posso farlo viaggiare. Posso invertirlo. Quindi andrà dall'altra parte. E valgono ovviamente tutte le opzioni di prima. Ovviamente le opzioni di formatazione del carattere sono ancora valide, nel senso che io posso ingrandire la dimensione, posso giocare con l'interlinea, posso farlo andare sopra o sotto. E poi andiamo a vedere. 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 Grazie.